La progettazione nel 2022, i cantieri con i lavori effettivi nel 2023, questi i tempi assicurati da RFI al Comune di Pietrasanta per la riqualificazione della stazione ferroviaria della Piccola Atene da anni preda del degrado, avvelita da spazi vuoti e servizi spesso carenti. Dopo il soprallogo di alcuni giorni fa da parte dei dirigenti territoriali delle ferrovie, insieme al sindaco Alberto Giovannetti, all'assessore Matteo Marcucci e al senatore Massimo Mallegni, membro della Commissione Trasporti, l'amministrazione ha scritto RFI per chiedere di accelerare i tempi sul recupero della stazione. Il Comune ha formalmente richiesto, accanto alla riqualificazione, anche il recupero degli edifici dell'ex ristorante, dell'ex appartamento e degli ex locali di servizio del personale, lato Viareggio, candidandosi a gestire questi spazi per offrire nuovi servizi pubblici. C'è poi la richiesta di cessione di una parte dell'area di competenza di RFI che corre a monte della ferrovia che consentirebbe l'allargamento della carreggiata di via caduti dei lager nazisti. Altro impegno, l'installazione di pannelli fonoassorbenti nei tratti urbani residenziali attraversati dalla linea ferroviaria. Per vedere i lavori serviranno però almeno un paio di anni, secondo quanto promesso da RFI. Non sono i tempi che vorremmo, ma non dipendono da noi, ha dichiarato il sindaco Alberto Giovannetti. Dopo l'estate, ha giunto, avremo un altro incontro a cui parteciperanno tutti i settori di RFI interessati da questi progetti. Monitoreremo il percorso, ha dichiarato ancora, con l'obiettivo di restituire un ingresso alla città all'altezza.